di questa gara, qual è Luca? Hanno dovuto rincorrere fin dall'inizio e questo ha inevitabilmente concesso spazio agli avversari non sono mai stati in grado però di correggere l'atteggiamento tattico in campo Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo Grazie Luca per il tuo prezioso contributo Grazie Fabio, alla prossima Grazie Grazie Grazie